Gossip, Nancy Brilli, il nuovo fidanzato è un ricco ambasciatore Gossip News, Nancy Brilli nuovo fidanzato Pupi Dangeri Gossip, Nancy Brilli non è più single Dopo l'addio al chirurgo Roy DeVita è stata paparazzata a Roma dai fotografi del settimanale Novella 2000 insieme al nuovo fidanzato Pupi Dangeri, in occasione di una cena e un dopocena L'attrice romana e il diplomatico sono stati fotografati all'esterno di un ristorante della capitale dove avevano appena consumato una cena Subito dopo cena hanno deciso di fare una passeggiata in quel frangente e due piccioncini sono stati paparazzati Gossip News Nancy Brilli, chi è il nuovo fidanzato? L'uomo in compagnia di Nancy Brilli è uno dei più ricchi uomini al mondo Secondo la rivista Forbes lui è al 601esimo posto nella classifica di ricchezza mondiale Possiede una collezione di ben 23 Rolls Royce Un patrimonio immenso grazie alla sua carriera diplomatica come ambasciatore per gli affari europei del Belize. Ovvero stato caraibico tra Messico, Guatemala e Mar dei Caraibi È stato il braccio destro di Arafat e vanterebbe amicizie altolocate nel jet set Di lui si sa che è padre di due figli Teava e Stefano, avuti dalla moglie Vendi, e che non si sa se adesso sia singolo o meno Pupi Dangeri prima si gode le pietanze al ristorante con Nancy Brilli, poi l'accompagna a casa con la sua Bentley da 200.000 euro con annesso autista Un vero e proprio gentleman Gossip ultime notizie Nancy Brilli Vita privata, divorzio da Aroide e vita La storia tra la famosa attrice Nancy Brilli e il chirurgo plastico è finita dopo 15 anni Un lungo amore finito di comune accordo per entrambi Tempo fa l'attrice si è raccontata al settimanale Gente rivelando la decisione di entrambi di troncare la relazione Roy e io abbiamo fatto un resè Lui è andato a vivere per conto suo, io sto cercando casa Ci sentiamo, ci vediamo, ci vogliamo bene, ma al momento è così acchiarito la Brilli non voglio dire nulla che possa urtarlo o offenderlo La nostra è stata una decisione di comune accordo, nessuno ha cacciato l'altro, non ci sono stati amanti né storie parallele Semplicemente succede che a volte le strade non prendano la stessa china In merito al motivo, pare ci sarebbe la mancata richiesta del matrimonio, ma Nancy precisa che non è l'unica ragione, è uno dei motivi, ma non è nemmeno la verità C'è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita I contadini, quando un campo ha dato tanto, lo mettono a magese in modo che possa tornare produttivo Ecco, io sto a magese E continua, sono single, serena e pure di buon umore E' davvero troppo presto per pensare a una nuova relazione Non sono ancora passata oltre Per un po' mi dedicherò a non avere responsabilità Mi sono preoccupata per troppi anni di essere affidabile, di fare la brava Voglio stare senza pensieri Ora però sembra che il cuore di Nancy Brilli sia tornato a battere di nuovo E dopo queste immagini il gossip non la mollerà di certo E dopo queste immagini il gossip non la mollerà di certo